Urla dal silenzio nelle case chiuse. Un appello affiorato dopo decenni ha trovato accorato a testimonianza ieri al Teatro Verdi con l'attrice Elena Arvigo, nell'incontro conclusivo della quindicesima rassegna Voci di Donna, organizzata dalla cooperativa Teatro e o Musica. Cinque leggi, uniti da un'onda di tessuto rosso, scavano un solco espressivo da cui fuggono le parole delle donne costrette per scelta, ricatto o destino a una vita in vendita. L'Arvigo invita a sospendere il giudizio sul contenuto delle lettere inviate alla senatrice Merlin negli anni 50 del 1900. Presto lei stessa ne diventa pura cerimoniera, tutt'una con i fogli che legge a cartoccia a fine invettiva, grido, disgusto e pianto, come distrutte furono le vittime della prostituzione. Il bestiario di clientele variegate dal profilo trasversale di poliziotti, operai, capitalisti e perfino preti viene dipinto con rabbia o disarmante candore. Una sarabanda infernale resa presto indistinguibile dalla routine di scale e salite e discese, malattie e suicidi. Nel carteggio uno spaccato d'epoca in mano alla tirannia maschile, dove la ribellione è affidata alla pietà ragionata di poche donne, capaci però, come Lina Merlin, dell'impensabile. La chiusura nel 1958 delle case di tolleranza. A fine spettacolo il pubblico, spronato dall'attrice, porta via un estratto cartaccio delle esistenze appena narrate, magari pensando che oggi alcuni politici vorrebbero riaprire quei lager definiti un tempo case di piacere.